RECLAMATE QUESTI TERRITORI UMANI SENTIAMO UMANI Oh, non sono alla tua portata, però... Piaccia di fuoco! Piaccia di fuoco! Piaccia di fuoco! Piaccia di fuoco! PIEC NEMICO INDIVIDUADO NEMICO INDIVIDUADO NEMICO INDIVIDUADO ARRIVA FURDO NEMICO INDIVIDUADO Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Massacro minide. Grazie a tutti. 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 Ci sono, amico. Grazie a tutti. 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 Sì, questo è quello che ho sempre voluto per voi e per tutti voi Grazie a tutti